Classifica alla mano a tre giornate dal termine della stagione regolare, gli equilibri sembrano essere già segnati nel girone A di eccellenza. La vetta della classifica è sempre occupata dal Manfredonia che a quota 58 punti guida il treno della Premier League pugliese. Gli uomini di De Canglia puntano al salto di categoria e la squadra nelle ultime giornate ha alzato i giri del motore. Domani intanto i biancazzurri saranno ospiti dell'Unione Calcio Biceglie, squadra che non ha più niente da chiedere al campionato. A distanza resiste solo il Biceglie che viaggia con un ritardo di 8 punti dalla capolista. I nerazzurri contro il Polimnia hanno un solo risultato a disposizione per alimentare il sogno playoff. Il regolamento infatti non lascia spazio a diverse interpretazioni. Con un vantaggio di almeno 10 punti tra la prima e la seconda classificata, gli spareggi promozione non si disputerebbero. Gli uomini di passiatore dunque non possono più permettersi passaggi a vuoto, un concetto ribadito anche da Simone Fanelli. È una partita difficile perché è una squadra molto giovane che in casa si è costruita già alla loro salvezza. È una squadra che corre molto e che ormai gioca spensierata perché ha raggiunto il suo obiettivo. Noi non possiamo più fallire perché siamo costretti, come è giusto che sia, a vincere queste ultime tre finali prima degli eventuali playoff. Sarà una partita difficile che però abbiamo preparato bene in settimana con la giusta carica. A chiudere il quadro della ventiquattresima giornata del girone A di eccellenza intanto Canosa, Vigortrani, Real City, Foggia e Incedi, San Marco, Corato, San Severo, Borgo Rosso, Molfetta e Unione Sportiva Mola, Orta Nova.